Il clima nell'aula è cominciato con grande cordialità, con grandi abbracci, saluti, sorpresa di trovarsi e poi è successo questo attacco di Hamas a Israele che ha sconvolto un po' il clima, l'allarme per una litigiosità, un'aggressività, una crudeltà che risultano incomprensibili, che risultano ingiustificabili e quindi questa impressione di un'impotenza delle forze del bene, della gente che ama la gente, ecco ci ha un po' tutti feriti e continua a essere un motivo di preghiera, molto spesso iniziando con la preghiera già prevista però viene inserito questo tema della pace, il tema del digiuno, il tema di accogliere quelle forme di penitenza e di riflessione, di preghiera che possono essere il nostro modo di non dimenticarci di queste tragedie. Cosa si sente di dire se c'è un messaggio che può dare alle tante persone che ci guardano da casa in televisione e che si trovano a vedere un'altra guerra nonostante i tanti appelli del Papa alla pace e all'unità del mondo? Io credo che noi dobbiamo essere gente ostinata nella speranza, cioè non possiamo abbandonarci alla semplice recensione delle tragedie, alla deprecare quello che è naturalmente ingiustificabile, non possiamo semplicemente lasciarsi prendere da una certa indifferenza, quasi che ormai bisogna rassegnarsi a questa impossibilità di mantenere la pace. I cristiani, tutti quelli che sono animati da buona volontà, io credo debbano essere ostinati nella speranza e la speranza si esprime pregando perché il Signore continua ad essere il Signore della storia nel suo modo di essere tra coloro che sono trafitti, tra coloro che sono feriti e crocifissi. Continuare a pregare questo Signore, non immaginare un'onnipotenza che semplicemente non fa niente chissà perché, ma immaginare l'onnipotenza dell'amore che è quella che Gesù ha manifestato come il volto di Dio. E poi ecco bisogna abituarsi a pensare, a riflettere, a conoscere perché la guerra, le situazioni di tremende prove che affrontano tanti popoli talvolta per noi sono semplicemente cancellati dalla memoria a motivo della banalità che occupa il nostro tempo, i nostri pensieri e i nostri notiziari. Quindi io vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano, continuate a sperare, continuate a pregare, continuate a pensare, continuate a informarmi su come vive la gente di questo tempo. Sono ormai più di sei anni che è Arcivescovo di Milano, quali sono i bisogni di questa città? Io ho scritto un messaggio alla città che credo sarà pubblicato prossimamente dopo aver fatto la visita pastorale, quindi una presenza capillare mia in tutte le parrocchie ma anche in ciò che sta attorno a tutte le parrocchie e le comunità pastorali e quindi ho cercato di mettere in un messaggio questa mia valutazione, considerazioni ed esortazioni. Quindi per riassumere quello che mi sembra sia necessario alla città di Milano ecco io credo che sia necessaria una speranza, una speranza che guardi oltre diciamo le previsioni di sviluppo o di problematicità, una speranza che ha bisogno di una nuova dinamica di solidarietà e di reciprocità nella conoscenza, cioè di quel buon vicinato che fa sì che sia desiderabile abitare in città e che sia una città che riesce a non pensarsi come il centro del mondo ecco ma a sentire la bellezza di essere dentro l'Europa, di essere dentro un rapporto tra molte popolazioni che a Milano vengono e noi abbiamo immaginato la chiesa di Milano come chiesa dalle genti proprio per questa capacità di accoglienza e di ampi orizzonti. Che cosa guadagnerà la nostra chiesa da questa mia esperienza? Cercherò di pensarci, siamo a metà circa della prima sessione quindi abbiamo ancora un lungo cammino da fare. Io trovo qui conferma quello che in diocesi abbiamo avviato sia pure appena embrionalmente, cioè alla forma di presenza sul territorio di quelle assemblee sinodali decanali che sono quel coinvolgimento delle comunità soprattutto di laici che si interrogano su come possono oggi annunciare il Vangelo a coloro che incontrano. Questo è lo scopo fondamentale e questo sinodo che è costruito sui temi comunione, missione, partecipazione mi pare che incoraggi proprio questo cammino.